...candida al ruolo di centrale difensivo, l'ha detto chiaramente, gli piace? Ah beh, è da vedere, però non so se l'ha mai provato in schemi di allenamento, Ventura. Boh, chissà, questo non l'abbiamo capito da questa... E d'altra parte poi ci ha rincuorato, perché lì vedo, cioè attraverso le sue parole, vedo l'ambiente molto sereno, quindi questo... Assolutamente sì. Anche risposta a tanti tifosi preoccupati, non è male. C'è un amico in linea, pronto? Sono Gennaro Baffone, Deguo Baffone. Grande Gennaro. Ciao, ciao. Io ho la prima cosa... Vuoi rivedere la foto di Masiero con i baffi? Ti piace questa foto? È bellissima. Con un amico che per l'altro conosco. Lo so, lo so, perché noi avevamo già progettato tutta la squadra con i baffi dall'anno scorso, con Piero Margiù e l'amico di Cuso. Purtroppo questa cosa la stiamo portando avanti, sperando che... Purtroppo è fortuna. No, è appunto. Ezzo, sono contento, vedi l'emozionismo per quello che è successo, per quel ragazzo tifosissimo del Bari, Andrea Masiero. Io veramente, io non so che cosa dire. Veramente, di tutto cuore, quella cosa che veramente... Ti è piaciuta, ti è piaciuta. È stato bello. Dovevo dire una cosa. Ieri è stato allo stadio, con tutti i tifosi, Ultras, club, qua e là. Abbiamo fatto l'Universo Materrese, Ventura, Angelotti e Dottor Gargelli di ciò che è successo. Abbiamo fatto un riassunto di portare avanti questo discorso, questa avventura, con Ventura e Angelotti e Materrese per il nostro bene. Quando è successo questo? Ieri vi siete visti? Ieri sera, ieri sera. Va bene, grazie Gennaro. Grazie, grazie, grazie. E intanto questi sono i filmati, tratti da YouTube, degli allenamenti del Bari. Oggi non siamo potuti andare con le telecamere, ci appoggiamo a qualche telefonino, non so che immagini siano queste. Credo di un telefonino, però... Oggigiorno non ci sono più segreti, insomma. Non ci sono più segreti, insomma. Approfittiamo anche noi di questo nuovo modo anche di filmare e fare informazioni. C'è un amico in linea, pronto? Hola Enzo, io sono Vigno. Vigno, Vigno da Grumo Appola, come stai? Vigno da Grumo, sì. Io sono il cugino del Vigno da Grumo. Del Vigno da Grumo. E allora che mi dici? Mi ha dato il mio cugino il numero perché in Bari manca l'attaccante. Io ho pensato, perché non prende me? Io ho fame a Rio. Pizza e birra e vengo, no problema. Nessun problema. Vabbè, ti proponiamo. Guarda, penso che se costi poco, come dire, hai più possibilità anche di venire a giocare qui, se puoi essere un buon investimento. Grazie, Vigno. Salutami il tuo cugino di Grumo Appola. Grazie, grazie. Intanto che sono fuori personaggi fantasmagorici nella nostra trasmissione. Va bene. 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta su Telebari, Radio Bari oppure attraverso il sito www.radiobari.net. Vogliamo dare un'altra carta. Ah, dobbiamo continuare a sfogliare le pagine del Bari perché ci sono due pezzi anche molto curiosi. Sì, prima della fine, più che altro, volevo sottolineare due pezzi che... Quasi la fine, ci conviene farlo adesso. Eh, appunto, ecco perché... Chiedo alla regia se possiamo mostrare quei due articoli che non abbiamo ancora mostrato. Allora, c'è un bel parallelo. Aspetta, quando li mostriamo in video... Ecco qua. Ah, questo è un altro articolo, viene dopo, ed è un articolo inviato da un cronista, nonché direttore di uno dei maggiori magazine sportivi dell'Albania, Besnik Dizari, si chiama, e ha praticamente voluto ricordare la sua esperienza di conoscenza di Lusta, che è stato un attaccante albanese che ha giocato nel Bari 70 anni fa. Noi l'abbiamo lasciato così come ce l'ha mandato, è un italiano misto ad albanese, quindi... Quindi ha giurato 70 anni fa. Però è molto molto interessante, perché storicamente è interessante, poi va letto con tutto il corredo anche fotografico che appunto accompagna l'articolo. L'altro articolo invece che dicevo, se riescono a mandarlo, è il parallelo che abbiamo fatto in Amarcord tra l'Almiron argentino di oggi in squadra col Bari e il rapporto Raul Conti, che ha giocato... Vediamolo. Sì, sì, è questo. Sì, eccolo qua. Gaucho come Raul Conti, tutti e due molto amati dai tifosi baresi all'epoca, Raul Conti... E tutti e due estremamente legati alla città, bisogna dire. E tutti e due, sì, Conti poi è tornato in Argentina, aveva una sua azienda, però è stato sempre legato e tornato puntualmente in occasione di tutti gli incontri, anche le ricorrenze bianco-rosse. C'è un amico in Ligna, pronto? No. Ciao Enzo. Sì, pronto. Sono Gianni Dallungo. Ciao Gianni, ciao. Saluti all'ospite pure. Ciao. Ma non gioca all'attacco. No, no. È un altro amico da grumo. Allora Gianni, dimmi. Per me si sta parlando troppo ancora della partita di Genova. Sì. Proprio perché quella partita ha lasciato proprio la mare in bocca, per come è finita, insomma. Eh, lo so, lo so. Perché noi, insomma, meritavamo... Facciamoci una ragione Gianni, la mare in bocca rimane, perché se stiamo a pensarci ancora erano tre punti in bocca, ormai è andata. Si parla di questo perché l'amarezza è stata un po'... una sconfitta particolare, dai, forse. La partita di Genova è stata troppo dura. Eh, lo so. Ecco, niente. Poi, che devo dire, ci manca sempre l'attaccante che mette la palla in rete e questo è tutto. Grazie Gianni, grazie. O ci manca che i nostri cominciano a segnare di più, va. Mettiamola pure così, va. Va bene. Stop. Fine settimana che si fa? Che si fa? Stasera ci vediamo un po' la nazionale, vediamo che cosa fa. Stasera riapri i battenti in teatro forma, ad esempio. È un'idea splendida per il weekend. C'è anche lo spettacolo con... Chi non vede la partita stasera. Un artista barese doc come Carmela Vincenti, quindi davvero... Peraltro so che il padre è un fedelissimo di Biancheroso TV Sport, quindi è un buon motivo, a maggior ragione, ce ne sono tanti per venire stasera al Teatro Forma che è il teatro accanto a Telebari, di Telebari, quindi è una cosa straordinaria. Praticamente il teatro che un tempo era lo studio televisivo, dove si facevano le nostre trasmissioni, ora è diventato un teatro fantastico, stupendo e avvenendo. Enzo, mi sa che è un'idea buona. Chissà, chissà, chissà che non si porti il Biancheroso in teatro. Grazie Michele Antonucci, grazie anche a voi. A lunedì con il Biancheroso TV Sport, ciao. Arrivederci. Grazie a tutti.